basta giocare ah dimenticavo non avete detto avete visto come si è assottigliato il gruppo in tre siamo rimasti siamo venuti a fare la pubblicità di quel clacapa fresca che non hanno bisogno di 30 gradi per usare la moto voi da casa potete fare la pubblicità delle borse della cuacarda e della tachipirina ma scetta fangheu non 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 un Grazie a tutti!